E' un'altra parte. Non è inda, voglio restare l'occhio pizzo. Fabio! È via. Non ci riesco. La realtà non mi piace più. La realtà è scadente. Fabietto, è tempo di guardare il futuro. Non è mai possibile che questa città non ti fa un invento e niente raccontato. Dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grande. Io penso un po' alla felicità, Fabio. Tu no. Non è possibile che tu sei libero. A dire che cosa riesco. A dire una cosa non contare. Sì. È di mail. Ciao. Grazie a tutti.